Violazione alla normativa tributaria per oltre 300.000 euro e due lavoratori in nero. Questa la scoperta della Guardia di Finanza di Catania durante una verifica fiscale nei confronti di una società operante nella provincia etnea, attiva nel settore della vendita di bevande e di genere alimentari. Nel dettaglio gli accertamenti hanno riguardato l'anno di imposta 2017 e sono stati sviluppati attraverso l'analisi dei flussi finanziari. L'attività di verifica ha così messo in evidenza vendite non fatturate per circa 300.000 euro con la contestuale proposta di recupero alla locale agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Nell'ambito della stessa attività è stato effettuato anche un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno lavoro nero che ha permesso di individuare due lavoratori assunti regolarmente. Al titolare dell'attività sono state contestate violazioni amministrative per ogni lavoratore con la contestuale segnalazione all'ufficio provinciale del lavoro anche al fine della regolarizzazione della posizione lavorativa e previdenziale del personale.